5 maggio 2014 Go On Italia, anzi Go On Friuli, l'invasione digitale del Friuli che si sta svolgendo in questa giornata. Che cos'è? Sono più di 100 eventi organizzati dalla Fondazione WIKITALIA che ha voluto simbolicamente invadere un'intera regione, siamo partiti dal Friuli per la volontà della Presidente Serracchiani, quindi simbolicamente invadere una regione con un centinaio di eventi dedicati a tutte le fasce d'età, ai ragazzi, agli anziani, cose sulla pubblica amministrazione, sull'imprenditoria, sulle opportunità offerte dalla cultura digitale. Io mi occupo di crowdfunding ed è quello di cui parlerò oggi al Cowomodo qui a Pordenone. Il crowdfunding che cos'è? È il finanziamento dal basso dei progetti, dell'opportunità dei giovani attraverso la rete. Fino a qualche anno fa si trattava di una parola sconosciuta, ora comincia ad essere un fenomeno un po' più chiaro e un po' più diffuso che i giovani conoscono. È un'opportunità appunto di mettere il proprio progetto in rete e di sfruttare le opportunità che ci danno i social network, fondamentalmente di interagire con le persone, di spargere la voce, di far conoscere la propria idea a costo praticamente zero, per raccogliere fondi, raccogliere fondi per la propria idea, da piccoli progetti a idee molto più grande. Ci trovano molte piattaforme in giro per l'Italia in questo momento che stanno offrendo la vetrina e l'opportunità per questo tipo di finanziamento, ma si può fare anche da soli, sfruttando magari il proprio sito e le potenzialità delle proprie rete di contatti attraverso i social network. È una grande opportunità per i giovani perché fondamentalmente attraverso la pubblica amministrazione, quindi i soldi che vengono dagli enti o magari da sponsor privati, non è più tanto semplice in questo momento di crisi trovare le opportunità e le risorse. E questo poi è anche un buono strumento non soltanto per finanziare la propria idea, ma anche per raccontarla e per andare a intercettare il proprio pubblico. E questo è il grande valore e la grande forza del crowdfunding. Funding, finanziamento, crowd e la folla messi insieme liberano un grande potenziale.